Buongiorno amiche e buongiorno amici bianconeri, buon martedì 9 gennaio a tutti, bentrovati qui sul canale. Anche quest'oggi ci sono un po' di argomenti di cui parlare, cominciamo con l'attualità, anche se poi di attualità c'è anche il secondo contenuto che spero di riuscire a realizzare, perché insomma vi consiglio di non perdere, c'è una situazione di cui parlare, per la quale mi avete scritto, che riguarda ovviamente sempre l'argomento caldo di queste settimane, gli aiuti all'Inter e gli sfavori alla Juventus, diciamo così. Ma rimaniamo sull'attualità in casa Juve, perché c'è un Giuntoli on fire, c'è un Dinhausen di cui parlare, c'è un Thiago Jalò di cui parlare. Prima di farlo però vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube, ad azionare la campanella notifica e a mettere un bel pollicione verso l'alto in fondo alla puntata, sperando che questa possa essere stata di vostro gradimento. Dunque, la notizia fresca di ieri è, come tra l'altro ho scritto sul mio profilo social Twitter, è praticamente che Thiago Jalò è virtualmente un nuovo giocatore della Juventus. Juventus che attraverso il proprio management operativo con in capo Cristiano Giuntoli perviene al sorpasso totale, completo sull'Inter, sul mercato, come vi avevo raccontato. E ovviamente anche questo fa sorridere, perché è un dato di fatto, fa parte della cronaca, fa parte della realtà dei fatti. Anche qui ci sono i soliti leoncini da tastiera che si dilettano poi ad insultare, perché evidentemente se l'Inter, se Thiago, se Jalò ha scelto la Juventus è perché l'Inter non era interessata. Questa è fondamentalmente il loro modus pensandi. Invece in realtà la Juve compie un'operazione importante, perché si assicura un giocatore di tutto rispetto, di grande rilievo, classe 2000, a parametro zero fondamentalmente, perché sarebbe andato in scadenza 30 giugno 2024, ma per anticipare appunto i nerazzurri con i quali il giocatore, che si erano mossi prima attraverso il buon marotta, di cui parleremo nel secondo contenuto, e mi raccomando non perdetevelo. Arriva alla definizione dell'operazione con un conguaglio da riconoscere nell'immediato, per anticipare appunto la perdita del ragazzo da parte dell'Ila, a parametro zero, attraverso gli ottimi uffici della Juventus con il Lille, ma soprattutto di Cristiano Giuntoli, che se ha una capacità mercatara, consentitemi il termine tra virgolette, ce l'ha proprio sulla Ligue 1, molto abile nello scovare talenti in quel campionato, molto abile la sua operatività su quel campionato, e lo dimostra per l'ennesima volta con l'operazione Thiago Geleau. La Juve anticipa l'Inter, versando nelle casse dell'Ila un compendio pari a 3,5 milioni di euro, più piccoli bonus che dovrebbero portare il tutto, qualora appunto fossero perfezionati questi bonus, ad un'operazione complessiva da circa 5 milioni. Per il ragazzo, 4 anni e mezzo di contratto, subito a disposizione di Max Allegri, giocatore che ovviamente rientra da un lungo infortunio al ginocchio, quindi avrà bisogno di rientrare gradualmente, giocatore che è praticamente pronto per il rientro. Vediamo se questo rientro graduale sarà effettuato attraverso magari qualche passaggio in next gen, proprio per consentirgli di riassaporare l'agonismo, la gara agonistica e quindi il clima partita. Ma è un giocatore, sarà un giocatore a completa disposizione di Massimiliano Allegri. Quindi operazione importante perché il giocatore, che personalmente non conoscevo se non per sentito dire, perché ha avuto un trappasso nella primavera del Milan, ho avuto modo di osservare attraverso diversi contenuti. Beh, devo dire che per quello che ovviamente mostrano questi contenuti, e sappiamo quanti contenuti vadano presi anche con le molle, perché chiaramente in quei contenuti viene messo il meglio del giocatore da mostrare. Però è un dato di fatto, vedergli fare determinate cose, determinate giocate con la palla, con la tecnica di cui dispone, beh, lascia presagire che la Juventus abbia messo a segno sicuramente un colpo importante. Poi la speranza è che il suo recupero dall'infortunio sia totale e completo, ma non dimentichiamoci che un infortunio al ginocchio colpì anche l'ottimo Giorgio Chiellini, ad un'età già abbastanza avanzata, nonostante tutto, lo disse lui stesso. Dopo il rientro dall'infortunio del ginocchio probabilmente disputai la mia migliore stagione. Quindi non abbiamo motivo di dubitare che anche per Thiago Jalot non possa essere un pieno recupero e la Juve possa aver messo a segno un colpo molto importante. Su Dinhhausen, perché mi hanno detto si dice Hausen e non Huizen, quindi proviamo a dire Dinhhausen, beh, la Juventus ha fatto, dal mio modo di vedere, un'operazione molto intelligente, un'operazione importante. E qui rispondo a tanti di voi che mi hanno scritto sia sotto i contenuti, ma sia anche sulle altre piattaforme, sia privatamente, sulla sciocchezza compiuta dalla Juve nel cedere un ragazzo che aveva già in casa per andarne a prendere un altro infortunato. Ora, vi rispondo subito come stanno le cose. Proprio per lo status dei due giocatori è un'operazione intelligentissima, perché uno viene da un lungo infortunio e quindi avrà bisogno di un rientro graduale. La Juve fondamentalmente nel reparto dei centrali difensive è sostanzialmente coperta e Dinhhausen non trovava lo spazio che meriterebbe per giocare con una certa continuità. Voi ricorderete il discorsino all'orecchio a fine partita tra Juventus e Roma che fece Mourinho a Dinhhausen? Beh, gli fu fatta l'evidente richiesta di seguirlo a Roma. Roma è una piazza difficile, ma al tempo stesso molto intrigante, entusiasmante e importante, per cui, dato che lì troverà la possibilità di fare minuti, la Juventus ha compiuto un'operazione straordinaria. Si assicura un giocatore come Thiago Gialò, su cui rischia un importo relativamente basso, pari a 3,5 milioni di euro per il cartellino, più un e mezzo di bonus, con la possibilità di mettersi in casa un giocatore classe 2000 dal potenziale importante, quindi dal grande futuro, ringiovanendo la propria linea difensiva. Manda a giocare un giocatore classe 2005 che ha un grande prospetto e dà una prospettiva davanti a sé molto importante, lo ha già dimostrato nell'esordio bianconero contro il Milan, lo ha già dimostrato nell'esordio contro l'Atalanta. Entrato in campo si parla dell'impatto che Dean Housen ha avuto con la sua presenza sulla partita. Quindi giocatore che sicuramente avrà un grande futuro davanti a sé, ma non lo scopriamo soltanto per l'ingresso in campo fatto con la Roma, lo si sa, chi lo conosce lo sa. Matteo Tognozzi, che lo portò a Torino, è sicuro e consapevole e cosciente che la Juve ha per le mani uno dei prospetti difensivi chiaramente più forti dei prossimi anni a livello europeo. E quindi lui va a giocare, la Roma paga 700.000 euro il prestito alla Juventus che quindi incassa anche una sorta di compenso che comunque male non fa, compenso che può scendere al superamento delle dieci presenze da parte di Dean Housen. Quindi tutto sommato direi che è un'operazione che consente alla Juve di avere dei soldi, far sì che una competitor valorizzi un suo giocatore, la Juve si mette in casa, il futuro che però non ha obbligo e necessità di giocare nell'immediato tutte le partite, deve rientrare gradualmente. Al tempo stesso si assicura il classe 2004 Luigi Cherubini, che a breve sarà definita come operazione per la Next Gen, per lui contratto fino a 2027, e quindi operazione direi straordinaria di Giuntoli, che posso definire veramente Giuntoli on fire, che è al lavoro, come vi dicevo, per convincere Adrienne Rabiot al rinnovo del contratto con la vecchia signora, su tutto il resto Giuntoli, che come detto opera bene, conosce molto bene la Ligan, ecco io terrei molto le antenne dritte anche per un prossimo futuro su quel campionato. Perché alla voce centrocampisti, dove la Juve cercherebbe di inserire in organico un giocatore, allo stato attuale non ci sono grandi nomi da spendere, spendibili per pensarli nel organico bianconero dalla prossima stagione, chiedo scusa, per questi ultimi sei mesi di questa stagione, perché anche Obierg, che è sicuramente più indicato rispetto a Calvin Phillips, per il quale ha interrotto la trattativa con il Manchester City, resta comunque un profilo discutibile, anche in proiezione futura, nel senso che la Juve cerca altro. E quindi, al netto di quello che sarà eventualmente l'annatore della prossima stagione, la Juve ragiona con calma, non vuole fare il passo più lungo della gamba, non vuole vincolarsi, vuole mettere a disposizione eventualmente di Massimiliano Allegri, un giocatore in prestito, senza vincoli, che possa accettare anche di essere di complemento e non una prima donna, non è facile. Il giocatore, come vi dicevo, preferito sarebbe stato Rodrigo De Paul, piaceva e non poco anche Samarzic, ma l'Udinese sul prestito non ci sentiva, lì c'è forte l'interesse del Napoli, e quindi molto probabilmente questo sarà un giocatore che sarà destinato agli azzurri. Vedremo quello che sarà. Giuntoli però non sta a dormire, Giuntoli è on fire tutta la vita, e assolutamente rimanete sintonizzati, perché a me, personalmente, per come si sta muovendo la Juve, anche proprio per garantirsi un futuro, fatto di giovani, con dei costi sostenibili, piace veramente tanto, e quindi qui lo sottoscrivo, qui lo dico, io vi do appuntamento a un secondo contenuto, sempre ad attualità, ma torneremo a parlare un pochino di quello che è stato il polverone che si è sollevato in questa settimana, a voi i commenti, e poi, come sempre, fino alla fine, Forza Juve, ciao!